Ok, posso scassare? Ti ho detto mettete tu qua, lo facevi tu, più contento, lo scassavi a me. C'è un'altra cosa, che si tratta di a te? Sì, a te stai avicato? Il primo te è fare, che si tratta di a te da te vedi. Sì, adesso è venire a te vedi. No, non si tratta di a te vedi. So, non si tratta di a te vedi. No, non si tratta di a te vedi. No, non si tratta di vedi. No, non si tratta di a te vedi. Alla prossima Sì, sta a vedere. Sì, sta a vedere. Sì, ci si qui asiat. O, io? Ja, io vediamo... non vediamo. Sì, niente vittaci? O, io ci? Sì, non vediamo, ma spazzo. Sì, non vediamo, ma spazzo. Sì, non vediamo, ma... Sì, non vediamo. Però vediamo, vediamo. Sì, vediamo, vediamo. Sì, siamo in questo paio. Si tratta di una storia. Si tratta di una storia. Ma si tratta di una storia. Si tratta di una storia. Sì, non si tratta di una storia. Grazie a tutti.